Abbiamo ritenuto potenziare questa manifestazione attraverso l'innesto della parte sul turismo perché riteniamo che il nostro territorio vada venduto nel suo complesso. Noi abbiamo una regione che ha grandi potenzialità dal punto di vista enogastronomico ma queste possono essere valorizzate solo attraverso un'azione sinergica con il turismo perché riteniamo che il nostro territorio sia un territorio ricco e quindi è un territorio che vada valorizzato per attrarre turisti che possano poi conoscere le nostre eccellenze enogastronomiche tra l'altro quest'anno è anche l'anno del cibo e quindi noi prestiamo particolare attenzione anche al fatto che i nostri prodotti di eccellenza debbano essere valorizzati in tutti i modi.